Arrestata una coppia a Gela dalla Polizia di Stato, si tratta di un 44enne e di una 31enne indagati per 12 furti in altrettanti esercizi commerciali del gelese. Gli inquirenti contestano i reati di furto aggravato in concorso compiuti con lo stesso metodo, utilizzando in modo indebito carte di credito rubate e non solo. La storia non avrebbe nulla da invidiare ad una sceneggiatura da serie televisiva. I furti sarebbero stati messi a segno tra giugno e agosto. L'uomo e la donna si sarebbero introdotti all'interno degli esercizi commerciali dove poi avrebbero puntato prima i registri di cassa, poi il computer e altro materiale. L'arresto effettuato dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela dà esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale Gelese su richiesta della Procura della Repubblica Locale. Il 44enne dopo l'arresto è stato condotto al carcere di Gela e la donna agli arresti domiciliari attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. I reati contestati sono quindi concorso in furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire e a forzare serrature.